buongiorno parlo piano perché Manu ancora dorme perché ha avuto un gran mal di testa quindi non lo voglio svegliare però qui siamo tutti attivi stamattina cagnolini, gattina, siamo tutti iperattivi allora niente io adesso mi preparo la colazione, stamattina devo andare al lavoro e quindi devo fare su di super super corsa però non torno a casa a bere il pranzo quindi sono abbastanza tranquilla perché il fine settimana è sempre un po' abbastanza pieno gli appuntamenti e niente adesso mi preparo, mangio, tutto mangio poi mi preparo, mi preparo con voi oggi stamattina ho deciso di truccare un po' e quindi vi faccio vedere come mi trucco e vi faccio vedere cosa mi preparo per colazione stamattina e ci sentiamo dopo allora ecco pronta la colazione, il solito che è stamattina come frutta mi sono preparata una mela bollita che avevo già bollito ieri sera con una spolverata di cannella, questo è il coffee che star nutisce e dei biscotti, questi sono di rosario nella versione in paralice reali il tè è sempre buono perché io adoro il sour wisdom tea, avevo zenzero e arancia e buona colazione a tutti io non so se anche voi guardate i cartoni animati la mattina però io la mattina guardo i cartoni animati su Italia 1 e in questo momento sto guardando Anna dai capelli rossi mi piace troppo e poi sul tempo vedo un po' di Chicago Fire con i suoi vigili del fuoco ve lo consiglio, è una serie bellissima che fanno solo la mattina per ora se non sbaglio però Anna dai capelli rossi madonna chi non se ne ricorda troppo bello questo cartone troppo bello Anna dai ciao 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 ragazzi ciao 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 che mi piace un sacco, poi è caldissima, questa l'ho presa qualche anno fa da Terra Nova e poi il mio jeansetto così un po' stracciatino ma la cosa che mi piace molto di questo look sono le scarpe con i calzini con i poafuxia che adoro, tra l'altro non lo vedrete mai ma il calzino è leggermente laminato è tipo argento laminato, troppo troppo carina che presi non mi ricordo dove e niente, scappo al lavoro, ciao che freddo pauroso, aspettate che mi sposto qui niente, sto facendo riscaldare la macchina perché insomma fa freddissimo e quindi non la faccio partire subito, poverina allora niente, sono pronta, adesso vado al lavoro altro pelo oggi, oggi sembro una pecorella, tutta rosa però una pecorella romantica e niente, poi cosa faremo stamattina? Manu in ferie, quindi comunque viene con me, sta con me e poi dobbiamo andare a ritirare dei referti medici e niente, poi torniamo a casa, ancora non so che cosa mangerò per pranzo e soprattutto se facciamo in tempo, prima del pranzo vorrei andare a fare una bella camminata come ieri perché mi ha aiutata moltissimo proprio, non lo so, mi ha dato un po' di energia in più oggi non c'è il sole quindi magari non avrà lo stesso effetto di ieri però comunque camminare fa bene era da un po' che non lo facevo e siccome c'è questa zona, insomma, molto isolata possiamo tranquillamente fare una bella passeggiata e niente, vado al lavoro e ci si vede più tardi ciao oh, eccoci qua finito di lavorare allora, c'è il sole bellissimo quindi sono molto contenta perché appena rientriamo dal fare quello che dobbiamo fare andiamo a fare una bellissima passeggiata perché col sole capite bene che, diciamo, è più bello allora, mi è venuto un fortissimo mal di testa non so se è per il freddo forse dovrei cominciare a mettere un po' i berrettini perché mi viene tutto un dolore qua tipo la sinusite forse comunque, allora, ho notato una cosa su YouTube ultimamente che quando rispondo ai commenti alcuni commenti io poi non li vedo cioè le mie risposte non le vedo e quindi mi capita di rispondere due o tre volte quindi se vi ritrovate la stessa risposta o una risposta diversa nel giro di poco è perché io non vedo il commento quindi quando vado a cercare i commenti a cui non ho risposto mi appaiono anche quelli a cui ho risposto vabbè, un po' contorto come ragionamento comunque è quello e allora, volevo approfittare per ringraziarvi per tutti gli auguri di compleanno che mi avete fatto tra i commenti sotto al video l'ultimo video di YouTube tutti i messaggini, i commenti che mi avete lasciato su Instagram insomma, grazie, mi avete riempita d'affetto e va bene, adesso stiamo andando a ritirare un referto medico e ci sentiamo dopo dai, quando siamo in giro a fare la camminata facciamo anche due chiacchiere ho finalmente a casa lo so che vi avevo detto che ci saremmo sentite durante la camminata ma io la camminata non l'ho fatta oggi perché ho avuto un mal di testa ma un mal di testa terrificante e niente, quindi ho preferito dopo pranzo un'oretta così sdraiarmi mettermi qualcosa di caldo perché mi faceva male tutta questa parte qui e così un po' mi è calmato perché comunque insomma avevo tanto da lavorare adesso sono già alle sette e mezza sono andata in tolettatura che saranno state le tre e un quarto quindi nel frattempo poi ho anche studiato perché altrimenti quando lavoro non concludo niente siccome io riesco tranquillamente a studiare anche in situazioni difficoltose cambio un attimo la mano altrimenti mi stanco e quindi riesco a studiare anche se c'è rumore se c'è casino se c'è lo stereo acceso se c'è il phone acceso riesco tranquillamente a concentrarmi anzi vi dirò di più che io nel profondo silenzio quando c'è un silenzio assordante quasi io non riesco a studiare ho bisogno proprio di di avere un po' di caos per concentrarmi sono tutta strana allora vi volevo far vedere delle cosine che ho comprato oggi delle cosine ho preso degli smalti vi sarete accorti che e accorte insomma che non sto facendo più il gel che preferisco le unghie molto molto corte però comunque sembrano piuttosto comunque ordinate e e quindi ho ricominciato insomma a smaltarmi le unghie e a comprare qualche smaltino perché io quelli che avevo li ho cestinati tutti anche perché erano vecchi di anni quindi vi faccio vedere quello che ho sulle unghie oggi è uno smalto di essi ed è il bordeaux si chiama proprio bordeaux ed è questo ed è uno smalto bellissimo e tra l'altro dura anche tanto io non ho messo neanche il top coat da tre giorni che ce l'ho su e potete vedere che è assolutamente brillante poi sono andata al tulipano e praticamente ho preso volevo prendere uno smalto di essi in un colore rouge noir insomma che imitasse lo Chanel no e avevo preso quello di essi poi mi sono imbattuta in due smalti di Astra super economici dello stesso colore identici adesso bisogna vedere la qualità però io questi li ho già utilizzati e vi dico che sono stratosperici allora uno è questo e si chiama lasting gel effect ed è questo qui vedete il colore appunto è un rouge noir anche se nello specifico questo si chiama non lo so assolutamente comunque è il numero 10 un rouge noir ed è bellissimo poi ho preso questo che è il numero 25 questo è la linea ultra brillante e come potete vedere molto molto simile secondo me sono identici però volevo provare le due texture insomma non mi viene in questo momento come dire e poi ho preso due colori già in tema primaverile questo è bellissimo allora è il numero 33 ed è un color corallo stupendo bellissimo mi piace un sacco non vedo l'ora di usarlo e poi ne ho preso uno color mango non so come chiamarlo il numero 34 sono stupendi questi smalti ed è anche questo un color corallo ma molto molto più chiaro un po' più tendente all'arancio però questi sono veramente già molto estivi però considerate che io ho una mano abbastanza scura quindi li potrei mettere già adesso questi smalti allora oggi vorrei iniziare non affrontare totalmente il discorso perché tante di voi e tanti di voi mi dicono ma perché non ci parli degli attacchi di panico dell'ansia quindi io inizierò un po' così il discorso qui in questo video in maniera così molto generalizzata e generale anche perché questo non è il contesto giusto per approfondire non per parlare perché di parlare se ne può parlare non c'è niente di cui vergognarsi non c'è niente da nascondere niente perché al giorno d'oggi tutti tutti soffriamo un po' di ansia generalizzata crisi d'ansia che possono sfociare ovviamente in attacchi di panico grazie a Dio non tutti hanno poi questa evoluzione e oggi così mi inizio a parlare così ad accennarvi perché tanti mi dite ma perché non ce ne parli cosa fai cosa non fai io diciamo non sono un medico quindi non posso dire cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare dico solo che parlare parlarne con qualcuno fa sempre bene io sono una persona ansiosissima ma il mio problema è l'ansia anticipatoria cioè l'ansia prima dell'ansia la paura della paura nel senso che io mi faccio venire l'ansia prima che i problemi si verifichino quindi anticipo un po' tutto questa è la situazione tra virgolette un pochino più come dire che rompe un po' le scatole ecco sono sempre stata così fin da ragazzina affronto tutto in maniera molto esagerata amplificata e tutto questo appunto mi provoca continui attacchi di ansia che si manifestano con l'attivazione di determinati punti fisiologici non so mi viene il mal di testa mi tremano le gambe ho i battiti accelerati ma questo rientra nella normalità nel momento in cui è tutto molto tranquillo e soprattutto motivato da qualcosa diventa un po' più problematico quando questo subentra così all'improvviso perché c'è eventualmente qualche paura qualcosa di un po' più profondo che magari io in maniera razionale non riesco a spiegare ma che sicuramente avrà una ragione ad esistere e mi sono anche persa comunque stavo dicendo che succede mi succede questo anche in modo irrazionale ecco perché magari non c'è un vero e proprio motivo dipende anche da una elevata emotività elevata sensibilità ci sono tanti fattori ecco però tutto si manifesta poi con dei sintomi fisici che all'inizio mi facevano spaventare mi facevano correre immediatamente al pronto soccorso oddio che cosa mi sta succedendo soprattutto quando poi diventano dei veri e propri attacchi di panico poi ho imparato ovviamente a gestirli ma questo con il supporto di persone competenti ovviamente di professionisti ho imparato a riconoscere quando sto veramente male perché mi sta succedendo qualcosa da quando quel qualcosa è provocato semplicemente dalla testa da una paura da un momento di ansia particolare intensa e quindi mi sdraio faccio i miei respiri profondi bevo una tisana telefono un'amica chiamo mio marito chiamo i miei genitori metto un po' di musica comunque trovo tutte quelle situazioni per spostare l'attenzione perché il segreto è questo spostare l'attenzione pensare ad altro e state sereniche se si tratta di una semplice ansia tutto passa ovviamente io non sto qui a dare consigli ci mancherebbe però è un dato di fatto questo lo possiamo trovare su qualunque libro su qualunque pagina di internet che andiamo a vedere che poi vi consiglio di non andare a leggere le cose su internet perché ma in generale per quanto riguarda la salute di non leggere mai su internet comunque sono delle cose basilari queste quando si soffre di ansia e si rimugina su una determinata cosa che ci provoca un po' di tensione la cosa primaria da fare è spostare l'attenzione quindi io porto i cani fuori insomma cerco di distrarmi e la maggior parte delle volte diciamo queste cose si superano però ecco magari se si vive una situazione un po' di disagio non so ci si sente particolarmente soli o si vive una situazione magari che non ci gratifica abbastanza questa poi può sfociare appunto in manifestazioni ansiose però ripeto io non sto qui a dire cose che non mi competono però sappiate che non siete da soli che non siete gli unici che almeno una volta nella vita io penso che ognuno di noi abbia vissuto un momento di ansia particolare un piccolo attacco di panico insomma fa parte un po' del mondo di oggi no? questa frenesia questo dover sempre dimostrare tanto che ci porta ad avere delle queste queste crisi queste ansie da prestazione a volte che ci portano ad avere questi stati ansiosi eccessivi ripeto la prima cosa è che bisogna andare da un medico per verificare che si tratti effettivamente di ansia che non ci siano delle altre patologie insomma una volta che si è capito che stiamo benissimo in salute che non c'è niente che non funzioni quando vengono queste paturnie è sicuramente l'ansia e quindi parola d'ordine spostare l'attenzione distrarci fare delle cose che ci piacciono a me per esempio registrare video mi aiuta tantissimo tanto 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 perché mi distraggo subito ora che mi trucco ora che sistemo qui tutto l'ambaratan con la ring light ora che preparo tutti i prodotti di cui devo parlare che già è passato tutto però è ovvio che lì per lì quando la cosa viene insomma mette un pochino di paura però poi tutto passa quindi parlatene sfogatevi raccontate se avete bisogno come si dice rivolgetevi a dei professionisti sempre e non andate a leggere tutte le cose che stanno scritte su internet perché insomma sono fuorbianti allora se fatta una certa adesso mi faccio una bella docina che mi rilassa mi riscalda mi metto un po' di crema sul corpo così anche quello mi aiuta a rilassarmi e poi preparo qualcosina per la cena stasera molto leggero vorrei fare una vellutata di zucca ma la faccio io però ho comprato la zucca quella verde che mi piace di più perché è un po' più saporita meno dolce e basta cena con quello ma non so lui non ama moltissimo quindi magari a lui preparerò una fettina di carne con un po' di insalata non lo so vedremo comunque io spero insomma di avervi tenuto compagnia mi avete detto che questo genere di video così sdraiati sul letto a chiacchierare vi piace molto e piace molto anche a me mi rilassa come vedete sono bella tranquilla e serena grazie mille veramente sempre per l'affetto che mi dimostrate lo sento in ogni parola che mi dite in ogni commento che mi lasciate vi ringrazio tanti bacini e se vi fa ci vediamo al prossimo video come sempre ciao buonanotte o buongiorno buon pomeriggio non so quando vedrete il video per me sarà una buonanotte perché a breve vado a dormire ciao ciao